A settembre via le stabilizzazioni all'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, ad annunciarlo è la CISL Funzione Pubblica. È ormai alle porte il Ferragosto, tradizionalmente dedicato dai nisseni a gite e viaggi. C'è anche chi resta in città per una questione di costi. Milena, fervono i preparativi per la festa di Sant'Antonio Abbate alla vigilia di Ferragosto. Gela, raduno di carretti siciliani nel segno della tradizione. Sport, calcio, nuovo arrivo in casa Nissa. Via libera alla stabilizzazione dei precari ASP assunti per fronteggiare l'emergenza Covid e all'assegnazione degli incarichi di funzione. A settembre verrà pubblicato l'atto riconoscitivo per confermare l'iter di assunzione stabile del personale precario. Lo ha deciso recentemente l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. Soddisfazione è stata espressa dai vertici del sindacato CISLFP, i quali hanno elogiato l'impegno del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Il segretario generale Salvatore Parello, il segretario territoriale Luca Vancheri e il segretario aziendale Antonino Guagenti hanno sottolineato la correttezza dei vertici ASP nei confronti dei lavoratori e anche la bontà dei rapporti tra i sindacati e l'azienda sanitaria. Sono 43.084 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, di cui 3.737 in Sicilia, in base al bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il dato della provincia di Caltanissetta, il numero dei guariti raggiunge quasi il doppio dei nuovi positivi, 322 contro 165. Dei pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 42 sono di Gela, 38 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 18 di Riesi, 12 di Mazzarino, 8 di Sommatino, 6 di San Cataldo, 5 di Butera, 5 di Mussomeli, 4 di Delia, 3 di Campofranco, 2 di Resuttano, 1 di Marianopoli, 1 di Serra di Falco, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo. È sempre un paziente di San Cataldo e ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione. Un paziente di Sutera è invece stato dimesso dalla degenza ordinaria. Tre i pazienti positivi al Covid deceduti nelle ultime 24 ore, 1 di Sommatino, 1 di Butera e 1 di Gela. Riguarda i 322 guariti, 93 sono di Gela, 66 di Caltanissetta, 27 di San Cataldo, 20 di Niscemi, 18 di Riesi, 15 di Sommatino, 12 di Mazzarino, 11 di Santa Caterina, 11 di Serra di Falco, 10 di Milena, 9 di Butera, 7 di Vallelunga, 5 di Campofranco, 5 di Marianopoli, 4 di Delia, 3 di Villalba, 2 di Mussomeli, 2 di Resuttano, 1 di Acquaviva e 1 di Sutera. Il momento clou dell'estate, il ferragosto è ormai alle porte, il giorno in cui generalmente la città si svuota e buona parte dei nisseni si sposta verso le spiagge o una località più fresca per una gita fuori porta. Sono molti infatti quelli che anche per questioni lavorative concentrano le vacanze durante le settimane vicine a questa festività, prenotando con largo anticipo in Italia ma anche all'estero e chi invece tenta di organizzare qualche viaggio all'ultimo momento valutando anche la questione costi. I nisseni ovviamente sono pronti a trascorrere il ferragosto fuori, le mete più richieste a parte la Sicilia che è sempre battutissima, le nostre meravigliose isole, la gente preferisce anche però andare fuori, ormai c'è un po' la via libera, pertanto si è optato per la crociera, le isole greche, le isole canarie sono state molto gettonate, poi c'è la richiesta dell'ultimo momento e quello è il vero problema perché effettivamente quest'anno c'è un pienone ovunque, pertanto si cerca di soddisfare il cliente per non lasciarlo senza vacanza ma è dura, quest'anno i costi sono notevolmente più alti. C'è dunque chi passerà la giornata in viaggio perché ha concluso il periodo di ferie, chi andrà al mare e chi invece preferisce rimanere in città. Una serata in spiaggia tra amici, mangeremo insieme della tavola calda e si berrà qualcosa per stare in compagnia. Programmi forse di andare a Siracusa e dintorni dopo ferragosto, due giorni così per staccare un po' dalla routine. Penso che resterò a Caltanissetta, tutto sommato non mi dispiace, poi la confusione di posti pieni di turisti e cose per ora preferisco evitarli. A settembre poi d'altronte ora sono in pensione quindi a settembre mi farò una bella vacanza più rilassante. Ho la cagnolina e devo evitare di lasciarla perché non vuole stare da sola e non vuole stare con altri. Quindi per ora me lo passo in città. La sera è sempre uno svago, insomma, mangiare un gelato, una pizza, quindi il tempo passerà velocemente. Ci concederemo una vacanza al mare, in famiglia per rilassarci un po' da questo anno davvero frenetico. Ovviamente un po' di mare, un po' di sole e un po' di relax che non guasta mai. Penso che lo passerò in viaggio, tornerò a Roma con la macchina. D'estate torniamo a trovare i nostri fratelli, i nostri genitori. L'associazione Onde Donne in Movimento ha proposto l'intitolazione della scuola elementare di Santa Barbara Rita Borsellino, scomparsa quattro anni fa, politica e sorella di Paolo, magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. Una proposta che la dirigenza scolastica e gli organi di istituto hanno accolto favorevolmente, stando a quanto spiegato dai componenti dell'associazione. Sulla richiesta manca soltanto il parele del comune. L'associazione Onde in Movimento ha sottolineato il grande impegno civile di Rita Borsellino nella sensibilizzazione sulla lotta alla mafia, un impegno che al di là delle carovane antimafie e degli incontri con i cittadini, in particolare i giovani, si è contraddistinto anche nella sua esperienza politica, con la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e anche quando, da parlamentare europea, ha contribuito alla creazione della Commissione parlamentare speciale sul crimine organizzato. Domenica alle 20.30 TFN trasmetterà una puntata di Antologia Reporter dal titolo Un'altra storia, contenente una lunga intervista del 2009 proprio a Rita Borsellino, di cui vi proponiamo un breve estratto. Oggi è chiaro che la mafia è il male e c'è altro, tra cui scegliere, ma c'è di più, oggi di mafia si parla, prima non se ne parlava, se ne negava l'esistenza, oggi la società parla di mafia, oggi i bambini già alla scuola materna fanno i cartelloni contro la mafia, quindi crescono sicuramente con una consapevolezza diversa. Con questo la mafia deve fare i conti, con l'opinione pubblica, la mafia si basava sull'omertà, si basava sul consenso. Paolo diceva che quando i giovani le negheranno il consenso la mafia finirà. Allora siamo sulla strada giusta, ma la mafia è ancora potente. Durante la vigilia di Ferragosti i cittadini di Milena celebrano la festa di Sant'Antonio Abate, giunta alla sua 126esima edizione. Da 15 anni l'organizzazione dell'evento è curata dal Comitato Sant'Antonio Abate, coinvolgendo anche il Comune, il tutto con la guida del parroco della parrocchia immacolata Vulgo San Giuseppe Don Luca Milia. Quest'anno ritorneranno i festeggiamenti di un tempo, un fitto programma di appuntamenti che comincia l'11 agosto fino alla vera e propria giornata di festa il 14 agosto. I festeggiamenti inizieranno già a partire dal mattino con il suono a festa delle campane di tutte le chiese e ancora le note suonate dalle bande musicali, il corteo mattutino, la benedizione di tutti gli animali domestici sul sagrato della chiesa madre. E poi momenti di preghiera e la processione nel pomeriggio per le vie del paese. La serata si concluderà con musica e cabaret e spettacoli pirotecnici. Parla di carattere identitario il Comitato Organizzatore, riferendosi ad una festa dunque che ritorna dopo il periodo pandemico rispettando tutti gli appuntamenti tradizionali. Noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte, si legge, restituendo a tutta la comunità di Milena la sua festa di Sant'Antonio Abate, per come essa è stata sempre celebrata. Comincerà giovedì 18 agosto la raccolta dei libri nel mercatino del libro usato. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.30, gli studenti potranno vendere e comprare i propri libri a metà prezzo negli uffici dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, ANMIG, in Viale Regina Margherita. L'iniziativa viene riproposta anche quest'anno e riguarda i testi scolastici di media e superiori per contrastare il fenomeno del caro libri. Ogni anno le studentesse, gli studenti e le loro famiglie, si legge nel comunicato dell'Associazione, si trovano a dover sostenere costi altissimi per poter acquistare il corredo scolastico e i libri di testo. Proseguono gli appuntamenti al Parco archeologico Palmentelli di Caltanissetta con i Teatri di Pietra. Il 12 agosto infatti va in scena Clitennestra versus Ifigenia da Jorsenare, Euripi, Derasin, adattamento e regia di Manuel Giliberti, musica di Antonio Di Pofi con Simonetta Cartia e Laura Ingiulla. E sulla figura di Clitennestra, la moglie di Agamennone che ruota l'attenzione, lei che dopo aver ucciso il marito afferma e fu giustizia. Il re di Argo Agamennone infatti viene ucciso di ritorno dalla guerra di Troia e vicino a lui perde la vita anche Cassandra, la sacerdotessa figlia del re Priamo, resa schiava e concubina del generale. Clitennestra è dunque il motore della vicenda. Dalla colpa di Agamennone della morte della figlia Ifigenia e del suo sacrificio dopo essere stata attirata ad Aulide con un pretesto perché la flotta greca potesse salpare alla volta di Troia. Non riesce a dimenticare Clitennestra neanche dopo dieci anni e dopo essersi legata al cugino di Agamennone, Egisto, ordisce la trappola mortale. Il testo Clitennestra vs Ifigenia si legge nel comunicato, ripercorre questa storia come la ricerca della radice più profonda di questa saga familiare fatta di sangue e vendetta. Clitennestra parla e agisce con Ifigenia che è per un fantasma perché in realtà tutto si è già compiuto. Ma la madre rivive il rapporto con la figlia in una sorta di transfer psicoanalitico ricerca se stesse e le sue ragioni o meglio le sue motivazioni. Avviene così, si legge ancora, che nella contemporaneità Clitennestra si colori di sfumature e caratteri che non sempre le sono stati riconosciuti. All'interno del calendario dell'estate gelese anche la manifestazione dei carretti siciliani, un momento di folklore per richiamare le origini della nostra terra. Siamo stati invitati dall'amico nostro e siamo qua per partecipare, per fare queste manifestazioni. Dopo avere il cavallo e sempre portiamo la tradizione. È bellissimo ritornare a vivere al 100% dopo due anni di pandemia anche attraverso queste manifestazioni. Questi sono eventi che richiamano il territorio, valorizzano tantissimo quella che è una tradizione locale legata alla storia e alla cultura del carretto. Grazie all'amico di Dio Antonio e Pasquale che ogni tanto si prodigono a realizzare queste manifestazioni che richiamano tante attenzioni, sia sotto il profilo sociale che anche culturale. È il benemerito anche alla città di Gela, all'amministrazione comunale che ha inserito nel programma estivo l'evento della manifestazione della sfida del carretto siciliano. Per i piccoli soprattutto serve per rinnovare le tradizioni, così conoscono le nostre tradizioni e conoscono da dove vengono e da dove veniamo. Noi siamo Compagnia Folkloristica Ciao di Sicilia e veniamo da Augusta. Siamo un gruppo folk, facciamo musica folk popolare siciliana, canti e danze siciliani che rievocano la Sicilia di un tempo, quindi la vita anche nei quartieri, quello che avveniva proprio una volta nella nostra antica terra. Com'è nata questa passione? Questa passione è nata da un gruppo di amici che abbiamo, diciamo tutti quanti, il nostro hobby, il nostro amore più grande è quello per le nostre tradizioni e i nostri valori. La Sicilia noi pensiamo che è veramente una terra che ha tanto da dare e le nostre tradizioni e i nostri valori devono essere tramandati soprattutto alle nuove generazioni, altrimenti si vanno a perdere. Diciamo che gli strumenti tradizionali popolari sono diversi, quella che vedete ora è una fisarmonica, ma abbiamo anche un altro strumento che ci hanno portato gli arabi come il tamburello e qui vediamo il nostro Marco che lo suona, poi la chitarra, la zampogna, il friscaletto di canna, strumenti che fanno parte in qualche modo della tradizione agropastorale del popolo siciliano e alle volte strumenti costruiti anche con attrezzi rudimentali e con i materiali che passava il luogo, quindi la nostra bella isola. Perché è così bello e così importante tramandare anche queste canzoni? È importante perché noi viviamo di storia, le nostre radici sono la storia della nostra vita praticamente, non bisogna dimenticare tutto quello che ci hanno tramandato i nostri nonni. È importante perché se si vanno a perdere quelle che sono state le radici di una nascita, giusto? Cioè si perde tutto, secondo me si perde l'identità di una nazione, l'identità di una regione, l'identità anche di un paese. Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della rosa biancoscudata in vista del prossimo campionato di eccellenza. La Nissa ha infatti tesserato il centrocampista argentino Agustin Alejandro Modula, classe 1993. Il nuovo acquisto biancoscudato arriva con un curriculum sportivo di tutto rispetto, avendo raggiunto l'apice della sua carriera nel Chacarita Juniors, squadra che gli ha permesso di esordire nella primera divisione argentina durante la stagione 2017-2018, collezionando dieci presenze. La Nissa lo ha prelevato dal club deportivo Guadalajara che mirita nella terza divisione spagnola. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'estate continuerà ad andare un po' in crisi sulle regioni centro-meridionali per effetto di una blanda circolazione depressionaria in quota che accentuerà l'instabilità proprio sul nostro paese, in particolare al centro-sud, mentre l'alta pressione continua ad insistere sul Mediterraneo occidentale. Più nel dettaglio osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra qualche addensamento in mattinata sulla Valpadana occidentale, mentre durante il pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla dorsale appeninica con associate precipitazioni. Vediamo infatti lo zoom delle piogge che ci mostra un'Italia nel complesso asciutta, in particolare la Valpadana, mentre durante le ore pomeridiane saranno soprattutto i settori appeninici del centro-sud che vedranno piogge, acquazzoni anche temporali localmente di forte intensità. Ma vediamo quindi il tempo previsto sul nostro paese, gran sole, sulla Valpadana, lungo le coste adriatiche, mentre dal pomeriggio, come dicevo, sull'Appennino aumenterà la nuvolosità, l'instabilità con acquazzoni temporali che potranno sconfinare anche fin sulle coste del medio-basso versante tierrenico, disturbi anche sulla Sicilia, sull'entroterra sardo, qualche occasionale acquazzone sulle Alpi più occidentali. Clima caldo ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.